Guardate, guardate, non ce ne vede nessuno! Vedete, mo' perchè è passata la macchina, se no guardate quanto stiamo al buio! Se non esce il video, è perchè ci hanno ficcato sotto! Ragazzi, allora, siamo in una notturna, la strada è completamente priva di lampioni e stiamo entrando in una casa che ha la fama di avere tanto di quel materiale tossico che c'è il nubile esposto d'Europa Quindi ci siamo muniti di maschere e di tutto il necessario, adesso non ci vedo niente e speriamo che non ci sta nessuno Voi che dite? T'apposto, proviamo! T'apposto, dai! Ragazzi, siamo arrivati al posto Come vedete abbiamo tante di quelle maschere perchè il posto è veramente tossico al 100% Per la prima volta ci vediamo tutte e tre le maschere, eh? Quindi, io direi che siamo pronti Andiamo! Come vedete Nintendo Dessere la serva di provo Da spesso Andiamo! Bye! ViPro Grazie. che sale con me? che sale con me? ok ragazzi allora il video è finito era in compagna di Andrea e Roby per sapere cosa ne pensate di questo posto noi ci vediamo nelle prossime spiegazioni ciao ragazzi